Allora, questa è una normale bici pieghevole, questo qui è il ruby, c'è il suo gancio e c'è un sensore di pedalata, o lo accendiamo acceso e ora proviamo a pedalare ok, ora lo spegniamo e si sgancia così così si sgancia abbiamo sganciato il motore e batteria e la bici diventa una normalissima bici solo col gancio